Se siete iscritti al mio canale saprete che ho fatto alcuni video con notizie, novità, trucchi e consigli per Death Stranding su PS4 e proprio come ho fatto circa un anno fa ho deciso di regalare a uno di voi la mia coppia del gioco. Ciao a tutti, io sono Sascha Ibasta e in questo video non giveaway vi dirò perché ho deciso di farlo e come ottenerlo. Lasciate un mi piace per aiutare le altre a trovarlo o un non mi piace per nasconderlo e andiamo! Come ben sapete c'è una certa catena di negozi che vi permette di riportare i giochi usati per avere del denaro in cambio oppure uno sconto sui titoli preordinati. Ovviamente dopo aver finito Death Stranding ho deciso di riportarlo per avere uno sconto su uno dei giochi che porterò a breve sul canale. Ma quando mi hanno offerto 5 euro per poi rivenderlo tipo a 30 o 40 ho detto tu vuoi incolare me? Per questo ho deciso di regalarlo a uno di voi. Purtroppo in Italia fare un video giveaway può costare centinaia di euro e credo che non è una buona idea spendere tutti quei soldi per regalare un gioco. Di conseguenza ho già selezionato un iscritto a cui ho deciso di regalarlo. Diciamo che ho un modo per ringraziarvi per il vostro supporto. Quello che vi chiedo è di farmi sapere a chi di voi pensate che andrà a Death Stranding e perché. Il nome della persona che ho scelto sarà svelato alla fine del prossimo 20 alle 20 con top 5 giochi in arrivo ad agosto che uscirà come sempre il 20 luglio alle ore 20 quindi vi consiglio di non perderlo se siete interessati. Per ora è tutto come sempre vi ringrazio per la vostra compagnia e vi auguro una buona giornata. Qui sa ce basta e ciao!